Assessore Manzato siamo in sua compagnia ma oggi è una giornata molto importante per la CIA e per l'agricoltura nel Veneto. Quali sono i punti focali di questa vostra reunion e come vi state preparando per l'Expo 2015, una data molto importante? Un momento particolare proprio perché stiamo parlando della nuova programmazione. La CIA è sempre stata molto attenta alla programmazione che non finisse ovviamente nel giro di pochi anni ma un prolungamento anche di visione strategica che gli consente anche di portare sul tavolo della regione Veneto delle proposte importanti come ha fatto ultimamente. Si parla della nuova programmazione, 1 miliardo e 200 milioni di euro per i prossimi 7 anni da una parte e poi invece il collegamento forte con l'Expo, nutrire il pianeta, significa una responsabilità anche importante per la regione del Veneto per presentarsi non solamente per quell'evento ma anche per gli anni futuri. Quindi la competitività del sistema agricolo passa sia dalla relazione strategica ma anche da una visione unica di intenti tra il settore agricolo, il settore turistico, il settore culturale e ambientale per presentarsi ovviamente nell'Expo con grande forza. Quindi un trampolino è non una meta da raggiungere e poi le pongo anche quest'altro quesito, siamo più di 7 miliardi ormai sul pianeta. Quali sono appunto le nuove tecniche oppure le nuove linee guida per sfamare tutta questa gente? Beh sicuramente come si diceva lei è un punto di partenza, significa porre in essere alcuni argomenti che possono rendere competitivo il sistema agricolo e presente nel mondo in maniera molto forte attraverso una vetrina importante come questa. Quali sono le nuove tecniche? Sono tutte quelle che sono legate all'innovazione, alla ricerca, all'innovazione. Non a caso fra pochissimo metteremo in campo anche un evento in particolare si chiama TEDx che ci consentirà di mettere insieme una ventina di soggetti che con le loro innovazioni possono in qualche modo migliorare la qualità della vita ambientale e anche culturale delle nostre aziende agricole per il mondo. Quindi stiamo cavalcando innovazione, idee per essere sempre più competitivi. Assessore, maltempo, crisi, come sta tenendo il comparto? Ma il comparto è solido, ovviamente questo maltempo ha creato molti problemi, si parla di decine di milioni di euro, l'analisi totale non l'abbiamo ancora conclusa perché stiamo facendo attraverso gli enti strumentali una visione strategica di insieme nelle varie province e è ovvio che qui bisogna intervenire non solamente ripristinando la capacità produttiva delle aziende ma anche avendo una visione strategica di mantenimento del territorio sempre più sano e sapendo che questi eventi non capitano più come una volta, una volta ogni 40 anni, ma una volta ogni 3, ogni 2.